Sapevo che ci stavi tu. Poi si è staccato pure. Un signore mi ha detto, sì ma se c'è la gamba, però a me non ci piacere, però lui mi ha detto vai vai perché agisce proprio che zero. Ma tu gli dovevi rispondere io, c'erano tre di gambe. No, no, secco. Bella, secco. Bene, non ce l'ho lasciato nessuno perché... Ma aveva detto lui a me vai vai. No, io l'ho aspettato. Io non l'ho fatto perché... E comunque sapevo che ci stava Dario e tu là dietro. Anzi, quando sono caduto, poi il signore si è offerti. È passato e poi ritrovato indietro. Beh... Anzi, anzi. Lui si è andato pure avanti. Infatti ha detto, porca madosca, oggi questo mancino, ma ci stai in una sana sana. Invece poi... Ma in pianura però si è cominciato a accusare. Ma anche in salita, in pianura. Guarda Michele là dietro, si è addormito proprio. In pianura mi ha fatto male corto la stanza. Eh, in pianura. Poi dopo, una volta l'ho aspettato. Dopo 130 km, due cadute, torniamo a casa. Sani. Abbiamo la piccia. A posto Gianluca. Gianluca, a posto, comincia a preparare i pezzi per le biciclette. Che così, queste cadute, vedi le cose. Non sapevo. Contente nuove, 140 euro. Puzza crescita su dente.